Paese che vai, Pasqua che trovi. In baronia è rimasta emblematica soprattutto tra le vecchie generazioni contadine l'usanza di capovolgere lo schiaccialardo per tutto il periodo di quaresima. Ma cos'è lo schiaccialardo? Il mortaio utilizzato per cucinare. Era vietato cammarare dal greco cammaronei, mangiare carne durante il digiuno. Non si poteva neanche cucinare con la sugna o il lardo che era grasso animale. L'alimentazione leggera assumeva un significato penitenziale ma è pur vero che nello stesso periodo iniziavano a scarseggiare nelle masserie contadine le provviste dopo l'inverno. Nel primo venerdì di quaresima a San Nicola Baronia la tradizione era rappresentata dalla processione della via Crucis itinerante, in particolare lungo la strada in salita della collina della Dolorata con 15 cappelline che pochi comuni in Irpini hanno. Il parroco soleva andare scalzo per tutte le stazioni per espiare i peccati. A San Sossio la tradizione quaresimale è legata alla pupa di stoffa da mettere appesa alla finestra o al balcone. Ecco la quarantana altrove chiamata quaresima con una patata nella quale vengono conficcate delle penne lunghe di pollo. Le sette penne simboleggiano le sette settimane di quaresima. La stessa pupa di pezza poteva essere utilizzata durante le elezioni amministrative per contare le settimane che intercorrono tra l'uscita della vecchia compagine amministrativa e l'ingresso della nuova in Irpini a paese che va e Pasqua che trovi.